here we go for our video talks of the day si no oggi pensavo all'ultima parte del mio tributo la seconda pace l'ultima l'ultimo pezzo della seconda parte quella non linciano del mio tributo angelo badalamenti il suo compleanno il 22 marzo e appunto questa parte credo la caricherò domani che ancora non ancora non l'ho montata ho fatto nulla però appunto non vi anticipo perché facciamo sorpresa l'ultimo pezzo poi mi spiego meglio domani che cosa su quale film tratta quale film è tratto questo pezzo appunto invito sempre legge la descrizione di questi video dedicato angelo badalamenti perché per tutte le altre informazioni c'è scritto tutto lì non mi voglio ripetere che altrimenti il video si allunga di cosa imprese se cosa comunque c'è scritto tutto lì anche per i tributi dell'anno scorso eccetera tutto lì in descrizione di questi video but today i was thinking all's about the fact that si stanno facendo sempre più insistenti le voci su questo sul nuovo film o la nuova serie diciamo di mr lince ma praticamente dopo domani avremo la conferma definitiva se effettivamente questo film o questa serie che si dice esistano film o serie che si dice che abbia come protagoniste due protagoniste sicure Laura Dern e Naomi Watts io non vorrei dire ma certamente le due sono comunque due anche le le due protagoniste la parte finale di twin peaks the return e non so se questo presunto nuovo film o nuova serie effettivamente voglia partire dalla continuare la storia di twin peaks e partire con questi due personaggi magari nell'episodio pilota ma appunto tutte queste sono cose diciamo ancora incerte lo scopriremo tra dei giorni quando effettivamente era data questa confine sul fatto che effettivamente questo film o questa serie esistano o meno e quindi vedremo ma però certamente sembra che le voci si stiano facendo sempre più insistenti dopo cinque anni mr lince tornerebbe a can quindi cinque anni sono nemmeno tanto pochi però vedo sempre più video che su questa fatta insomma e tra l'altro adesso sarebbero anche più certe le notizie la spiegazione poi verrebbe data anche una spiegazione a tutta l'attesa abbiamo avuto noi fan di tutta alcune tutta una serie di cose misteriose che abbiamo visto nel corso di questo praticamente quasi due anni questo progetto misterio ricorda denat vedevamo posto di attori che condividevano la pianta la misteri ma anche altri segni non solo lì di anche insomma manda sifrid e kyle mclarland che postarono cose relative a a twin peaks al ristorante a a snow qualmi forse insomma insomma vedremo 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 si saremmo invece smentiti ancora una volta però appunto questa volta paremmo più sicure le cose oppure no ma vedremo vedremo questione di ore praticamente mancano penso poco meno di 48 ore vedremo si penso il resto ho pensato a tutto nel caso mi è salta cosa in mente come sempre aggiungo in descrizione e regret the gain a domani